La bottega dei piccoli talenti. Il nuovo progetto, dedicato alla scuola dell'infanzia, è composto dalla guida didattica per l'insegnante e dagli album operativi per i bambini di 3, 4 e 5 anni. Oltre a seguire la programmazione annuale, offre un percorso di educazione civica che si sviluppa attraverso le quattro R, rappresentate da quattro animaletti guida. Rispetto, Riuso, Riduco e Riciclo. Questi concetti sono approfonditi anche nel gioco dell'oca delle quattro R. Nello specifico, la guida didattica, strettamente correlata agli album operativi, è composta di due volumi. Il volume 1 organizza la didattica mese per mese. Ciascuno è contraddistinto da un colore e da un racconto. Dieci storie per dieci mesi. Si affrontano le stagioni, le festività, le giornate mondiali e il lessico inglese relativo al mese. Non mancano di certo i già menzionati contenuti di educazione civica, basati sulle quattro R, trasversali a tutto il percorso didattico. Il percorso artistico, quello musicale e le drammatizzazioni teatrali offrono infine una didattica ricca di espressività ed emozioni. Il volume 2 della guida, invece, agevole al lavoro del docente, proponendo la programmazione didattica mensile. Le griglie di osservazione e valutazione. DSA, disturbi specifici di apprendimento, con schede per lo screening e laboratori per il potenziamento. Outdoor Education, per attività inclusive all'aria aperta. Arricchiscono il progetto le risorse digitali, disponibili inquadrando i vari QR code, tra cui schede e modelli fotocopiabili. Racconti e filastrocche extra. Il materiale audio e video, tra cui canzoncine e audio racconti. Listening in inglese e video filastrocche. La Befana è una vecchina, tanto sola, poverina. Col vestito rattoppato, un bel sacco e preparato. I contrassegni adesivi. I cartamodelli per realizzare gli animaletti 3D. Quattro poster. Gli album, coinvolgenti e stimolanti, divisi per fascia d'età, sono invece arricchiti da l'inserto, io e gli altri, con schede dedicate all'educazione civica. Il fascicolo 10 storie per imparare, tratte dai racconti della guida didattica, con illustrazioni da colorare e altre attività operative. Il quadernone di prelettura, prescrittura e precalcolo, per sviluppare le competenze della continuità educativa con la scuola primaria. Completano il progetto i bigliettini per le feste e il diplomino di fine anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.